Buongiorno a tutti, sono Sandro Paganotti e oggi vediamo le direttive. Le direttive sono una possibilità offerta da AngularJS per costruire elementi custom in pagina che abbiano un comportamento simile, anche se diverso nella sostanza che lo vedremo oggi, dai web components che abbiamo analizzato nel precedente video. AngularJS è un framework più complesso rispetto a solo parte delle direttive che vediamo oggi ed è un framework che consente di costruire applicazioni web che fanno uso di tecniche come il data binding tra il javascript e gli attributi html e una struttura mbc propria di un framework complesso e strutturato come questo. In tutti questi aspetti le direttive costituiscono una parte importante perché ci consentono di estendere le potenzialità dell'html introducendo oggetti e comportamenti custom rispetto a quelli previsti dalle specifiche del WTC. In questo caso proprio per effettuare una vera e propria comparazione fra quello che ci consente di fare Angular e i web components costruiremo lo stesso esempio della lezione precedente usando le direttive. Per fare questo possiamo partire da un codice html di questo tipo che fondamentalmente ci dice due cose. La prima è che con ngapp stiamo dichiarando che questa porzione di pagina è controllata da un'applicazione Angular e in secondo luogo stiamo dichiarando un elemento custom dal nome spvideo con un attributo query. Ovviamente il browser non riconosce questo elemento, sta a noi descrivere il comportamento di questo elemento e la reazione che deve avere rispetto alla valorizzazione del suo attributo. Per fare questo possiamo utilizzare Angular e la prima cosa che dobbiamo fare è dichiarare l'applicazione che andrà a contenere la nostra direttiva. Quindi in questo caso con il costrutto Angular.module andiamo a creare un'applicazione dallo stesso nome rispetto a quella di ngapp presente in pagina e eventualmente, anche se in questo caso non è necessario, potremmo specificare delle moduli da cui questa applicazione dipende. Una volta fatto questo, all'interno della nostra applicazione andiamo a dichiarare la direttiva. La direttiva si dichiara attraverso il costrutto direttive e si compone di due argomenti. Il primo argomento è il nome della direttiva, che in questo caso deve essere la versione, diciamo, il lower camel case del nome dell'elemento che abbiamo deciso di costruire. Il secondo parametro è la funzione che la direttiva andrà ad utilizzare e che Angular si aspetta descriva la direttiva stessa. La funzione fa, utilizza uno dei meccanismi portanti di Angular che è la dependence injection. Quindi, gli argomenti che noi decideremo di far ricevere a questa funzione verranno interpretati dal motore di AngularJS come vere e proprie dipendenze che verranno risolte per fare in modo che la funzione abbia i servizi necessari per poi effettivamente espletare il suo compito. In questo caso, l'unica dipendenza di cui necessitiamo è la dipendenza verso il servizio che esegue le chiamate HTTP AJAX. Il servizio si chiama $HTTP e quindi quello che dobbiamo fare è aggiungere la richiesta per questa dipendenza all'interno del nostro script. Ci penserà Angular a risolvere la dipendenza e fare in modo che quella variabile sia poi effettivamente validata con il servizio richiesto. Fatto questo, la direttiva si aspetta, una volta eseguita, il ritorno di un oggetto javascript che aveva valore con alcune proprietà che descrivano questa direttiva. Le proprietà sono molte e la documentazione di Angular è molto esauriente in questo senso. Noi andremo a vedere le principali e quelle che ci servono ai fini del comportamento di cui abbiamo bisogno in questo momento. La prima proprietà che vediamo si chiama restrict e fondamentalmente ci consente di specificare che tipo di direttiva stiamo creando. A differenza dei web components, AngularJS consente di creare direttive anche come semplici attributi in modo da darci la possibilità di, ad esempio, decorare un elemento esistente. Quindi con restrict noi andiamo a specificare in che formato ci aspettiamo questa direttiva venne implementata. Le scelte possono essere E che sta per elemento, A che sta per attributo e questi valori possono essere anche combinati utilizzando la virgola. A seguito del restrict andiamo a specificare lo scope che fondamentalmente spiega alla direttiva come e in che modo funzionano gli attributi ad esso associati. In questo caso abbiamo un solo attributo che si chiama query e quello che dobbiamo fare è raccontare, spiegare ad AngularJS come il parametro query deve essere interpretato all'interno della direttiva. Quindi andiamo a dichiarare che la direttiva ha un parametro che si chiama query e Angular ci chiede di descrivere qual è il comportamento con cui questo parametro deve essere utilizzato. Le opzioni sono tre. La prima, quando utilizziamo la chiocciola, stiamo ad indicare che il parametro query deve essere interpretato come stringa. Per cui in questo momento, con questa dicitura, AngularJS andrà ad interpretare la stringa Google che in questo momento è associata come valorizzazione del nostro attributo query esattamente come una stringa. Quindi il valore sarà Google. Se al posto della chiocciola avessimo usato l'uguale, invece quello che indichiamo ad Angular è che all'interno dell'applicazione è presente una variabile di nome Google il cui valore di questa variabile deve essere lo stesso del valore dell'attributo query. Per cui stiamo facendo una relazione fra due variabili. Il terzo parametro è invece la e-commerciale e la e-commerciale è la terza tipologia di legame e la e-commerciale invece viene utilizzata quando la valorizzazione dell'attributo è fatta sotto forma di funzione e indica fondamentalmente un legame fra la funzione all'interno dell'applicazione e il nome dell'attributo a cui è legato. In questo caso la soluzione che ci sembra più comoda è quella di utilizzare l'impostazione testuale quindi leggere la stringa Google in questo caso proprio come una stringa che sarà quella su cui andremo ad eseguire la nostra query. Perfetto. Bene. Ultimo passaggio dobbiamo ovviamente provvedere alla nostra direttiva con una funzione che ci consenta di descrivere qual è il comportamento che Angola deve tenere quando incontra questa direttiva in pagina. In questo caso il comportamento è abbastanza semplice e lo vediamo subito. Quello che dobbiamo fare è semplicemente indicare con la proprietà link quella funzione che dovrà essere eseguita nel momento in cui viene identificato un elemento di questo tipo quindi un elemento corrispondente alla nostra direttiva all'interno della pagina. Nel nostro caso la funzione link effettua un'interrogazione al JSON di YouTube quindi alla funzione di search di YouTube recuperando tutti i risultati corrispondenti alla query passata come parametro e una volta recuperati questi risultati questi risultati vengono aggiunti all'interno di una proprietà dello scope. Lo scope per Angular rappresenta l'insieme di variabili ovviamente arbitrario possiamo costruire uno scope come vogliamo con la caratteristica interessante che poi queste variabili saranno esposte a livello di template per cui tutto ciò che noi andiamo a salvare nello scope in questo caso appunto l'elenco dei video recuperati dal JSON recuperato da YouTube sarà visibile all'interno del nostro template. Ultimo passaggio per questa direttiva dobbiamo appunto andare a specificare e a spiegare ad Angular qual è il template associato a questa direttiva per cui a livello di visualizzazione quali elementi HTML devono essere inseriti a completamento della pagina. In questo caso il template è molto semplice per cui può essere messo in linea sappiate che lo stesso template potrebbe essere anche un file diverso con l'istruzione template URL e in questo caso il template è un semplice lista non ordinata in cui cicliamo su tutti i video presenti nello scope e di questi stampiamo il titolo. non ci resta che chiudere la nostra mappa chiave valore chiudere l'invocazione e la direttiva e eseguire l'applicazione. Ok, come possiamo vedere il risultato è quello atteso otteniamo infatti l'elenco dei video recuperati da YouTube secondo la query specificata come attributo all'interno della nostra direttiva questo perché la nostra direttiva viene correttamente interpretata all'interno della pagina, eseguita e viene invocato il servizio di query di YouTube e i video recuperati vengono messi nello scope e poi stampati attraverso il template che abbiamo visto. Un unico piccolo problema di questa implementazione è che l'attributo una volta letto in fase di linking per cui in fase di interpretazione della pagina non viene più monitorato e quindi nel momento in cui questo viene cambiato l'effetto non si ripropote poi sulla lista dei video. Possiamo ovviare questo problema e lo vedremo nella prossima puntata. A presto! Grazie a tutti!